Il legno, dicevamo che il legno a cui ci si affida per l'invecchiamento e il legno di rovere. E' pur vero però che in Italia le grandi flessere ci mancano. Quindi fino a pochi decenni fa, parliamo degli anni 50-60, era molto più comune usare, anzi che intortare a rovere, altri tipi di legno di cui si è a disposizione. Ad esempio il castagno. Il castagno dà poi questa colorazione molto scura.